I consiglieri del Movimento 5 Stelle, Pierrino Leggeri e Carlucci, intervengono sulla vicenda del bonus di 600 euro previsto dal Governo nazionale a favore dei titolari di partite IVA, colpiti da danni economici conseguenti alle chiusure e misure di contenimento della fase 1 dell'emergenza epidemiologica. Tra coloro che avrebbero incassato il bonus precisano gli esponenti del Movimento 5 Stelle, anche politici e amministratori locali che nella maggioranza dei casi, per la loro situazione economica e patrimoniale, avrebbero potuto fare a meno del contributo statale. Tra questi il sindaco di Vigiano, Amadeo Cicala, fratello del presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala, che ha ampliato il bonus fino a 3.000 euro spendendo le royalties che affluiscono nelle casse dei comuni dell'area. Tra i maggiori beneficiari di questo covid bonus, dichiarano i tre consiglieri, risulterebbero diversi membri della famiglia del sindaco Cicala, compreso il presidente della massima assise regionale. Per fare necessaria chiarezza e tutelare l'onorabilità e la reputazione di tutto il Consiglio regionale, concludono gli esponenti del Movimento 5 Stelle, nei prossimi giorni chiederemo formalmente a tutti i consiglieri e assessori regionali e al presidente Bardi di dichiarare pubblicamente se hanno usufruito o meno di bonus nazionali, regionali e locali.